L'uomo non può sfuggire alla legge della natura, non sfuggiamo, noi ci siamo illusi, ci stiamo illudendo, penso che tra poco dovremo correggere la nostra rotta e capire che siamo un meccanismo della natura e che la natura è lei che governa e che lei che ci governa. Per tornare al discorso degli animali, tanto per dire, chi spinge ad esempio, tanto per dire, un mammifero, qualsiasi mammifero libero, che vive allo stato libero, che mette al mondo per la prima volta un suo piccolo, ma chi gli insegna queste cose se non ce le ha stampate nel suo istinto? Chi gli insegna di asciugare, di leccare, guardate che ci stanno nascendo con questo freddo qua in mezzo alla neve quasi, degli agnellini, chi gli insegna alla pecorella di asciugare il suo piccolino se non ce l'avesse stampato nel suo DNA di fare così? Chi insegna all'agnellino appena nato di alzarsi in piedi, di andare a cercare le mammelle della pecorella di sua madre e succhiare? E proprio sua madre, se non l'avesse stampato nel suo DNA, questo suo comportamento? Per cui noi ci portiamo dietro questo comportamento proprio da generazioni, generazioni e che siamo scaturiti noi, che siamo la somma di un'infinità, di un'infinità, di un'infinità no, ma sicuramente di sette, otto generazioni ci portiamo dentro noi parti di questo DNA che ci viene quindi praticamente da più di un secolo, anzi quasi da due secoli e questi comportamenti li abbiamo incamerati e che li tiriamo fuori in certi momenti della nostra vita, come può essere il parto, come può essere la ricerca del cibo, la ricerca delle mammelle, di succhiare le mammelle della propria madre, come può essere la ricerca della persona giusta con cui riprodursi. Ce l'abbiamo stampato dentro, qual è la persona giusta per noi. È che difficilmente, è che difficilmente, no, non è, è molto molto più semplice di come, è che difficilmente noi, adesso sono stati cambiati i modelli, adesso si è dato valore alle persone plastificate che sono fatte in un certo modo, che devono essere perfette e sottotutto una serie di aspetti, che devono avere un certo comportamento, un certo abito, un certo trucco, un certo profumo, adesso è stato alterato tutto, ma poi passerà anche questo.